Bella scorpacciata di punti oggi dai dozer contro i etetico Raffa, 3,7 credo oggi il bottino Filippi sta morendo Allora ragazzi raccontateci un po' Finalmente un momento positivo, volevamo le vittorie perché ovviamente abbiamo preso punti e possiamo salire diciamo in classifica per far rimanere sotto le parole, le direttive Vittorio è importante, è un bel biglietto da vista per quanto riguarda verso i low hacker no? Sì, la prossima è che Venderete cara la pelle Oggi che hanno fatto? I low hacker credo che ancora debbano giocare Vabbè ruberemo un pareggio Facciamo a tasso Meritato Oggi mancava il vostro partito di tolare, lo ha sostituito Il partito di tolare ha fatto grandi parole E credo per i due gol perché se lo prendevamo pure ai nuovi subiti Complimenti al capitano con la sua tripletta E a Filippi pure E adesso che campionate si stanno mettendo per voi? No, senza posto Visto l'inizio è un po' così così Prima dei dieci posti, non sotto i dieci Per ora stiamo tranquilli Migliore in campo tra di voi? Marino Maringo Il capitano? Sì Sin dall'inizio Secondo migliore in campo Grazie a me Qualcosa da dire sugli avversari invece? Non parliamo Per loro Avversario No vabbè Alla fine Hanno una squadretta precaria Precaria Vabbè Ok ragazzi Complimenti Ci vediamo venerdì prossimo per fermare lo hacker Ciao ragazzi Ciao 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 Un'altra giornata nera degli atletico Raffa Oggi ha debuttato il nuovo portiere Melilli Però non è andata bene Capitano Allora raccontami un po' La situazione è quella che è Stiamo giocando male Poi abbiamo delle incomprensioni ancora che non riusciamo ancora a sistemare Qualche accenno di miglioramento nella prestazione? No ancora niente Anche perché abbiamo perso 7-2 contro una diretta concorrente Cioè era a 2-3 punti su meno Quindi la situazione è un po' tragica diciamo nella vostra squadra Gli avversari si potevano battere allora da quello che dici? Si si potevano battere Ho visto che erano senza portiere e che non ce l'hanno chiesto No non lo so Ci hanno dato uno chiede Qualcuno da salvare oggi? No forse è Bibitone Il debutto del nuovo acquisto com'è andato? Ha girato bene Però stavo giocando male E abbiamo trovato un altro lato al mare Come l'hai trovata tu questa squadra? Più che altro ci sono incomprensioni Perché individualmente secondo me i soggetti vanno Anche perché li conosco da tempo Però purtroppo la palla non gira e non si sale Se si sale non si scende Comunque ci sarà tempo magari per migliorare Vedremo un po' Speriamo Ce la metteremo tutta Ok ragazzi ci vediamo venerdì prossimo Comunque nuovi acquisti in arrivo Arrivano nuovi acquisti? Si arrivo con acquisto Vedremo allora siamo qua Ciao ragazzi Ciao ciao